popolo di hookhead trote pollo quello si è chiuso in macchina però adesso scenderà oggi pollame vediamo vediamo siamo alla gatto sgagna andremo nella zona no kill e speriamo ad attaccare pescheremo solo ed esclusivamente a spoon perché oggi c'avevo voglia di spoon e non c'avevo voglia di impegnare no scherzo pescheremo a spoon perché a me è una pesca di piace molto e quindi attacco allo spoon riconoscete coli che bello che è venuto a darmi manforte perché così se non aggancio un cazzo mi voglio buttare nel lago mi tira solo uno strozzo io pesato o mi affoga lui sono palesemente in contro luce quindi se mi vedete bene mi vedete fatemi un colpo di telefono è un po che non andiamo in pesca raga lo so purtroppo ho avuto da fare tra lavoro mica lavoro cazzi e mazzi una vita difficile distenti quella del pescatore niente speriamo ci siamo arrivati a potrello ci siamo siamo iść poste Allora 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 Vuoi un bacio? Eh Lo sapevo ma Scontato Non so di che Di che anno sono No di che gusto sono Sono quelli nuovi adesso Grazie Il colore va bene perché gli è andata dietro abbastanza incazzata Grosso Si chiama coda di topo Perché poi c'è il terminale che è molto più sottile Spostiamoci qui in lava No Vuoi dirati sto cazzo Aspetta dobbiamo passare alti Proviamo aggressive Se va Poiana la Se è grande come l'angelo da fuori Guarda Questa coda Qui è grande come l'angelo da un mio amico e allora ci vediamo al laghetto azzù che mangiata che mangiata ma ha rotto il filo allora ho messo su questo questo spun della molix da due grammi e mezzo oro e giallo vediamo 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 dov'è quella che mi ha dato prima era veramente grossa e te lo dico io mi si è assegnato il filo prima sui sassi di là eccola mi prendi il guadino ma incazzatella ultimo lancio e si va a casa che cazzo è le scali così prendevo neanche l'aria riuscivo a prendere così last cast pay attention last cast it's mean fish a sort una l'abbiamo presa andiamo padre maronno vabbè dai una c'era una una rotta tanto se non rompo un filo ogni volta che vado hai lanciato in testa mille pesci ma mi sono abboccato ragazzi le tortelle oggi erano infami il vento era importante ma noi perseverando abbiamo preso lo stesso bella raga e niente alla prossima puntata di uc ciao 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 ciao